Dal 2 al 4 marzo 2018 si è svolta a Bologna la 26esima edizione di Eudishow, il Salone Europeo delle Attività Subacquee, il più importante appuntamento nazionale ed uno dei più prestigiosi a livello internazionale nel campo del mondo sommerso. Dagli appuntamenti di Agora con i nomi illustri della subacquea, agli incontri allo stand con i Diving Continente Blu e Sea Shepherd, dall'Assemblea Nazionale ai momenti conviviali, un caledioscopio ed iniziative FIAS per un Eudishow 2018 fantastico. Possiamo che essere veramente soddisfatti di tutto questo, abbiamo avuto la nostra Assemblea, abbiamo avuto l'incontro e la presentazione dei nostri brevetti alla marina militare, quindi un altro momento importante di soddisfazione, con le nostre Pia Sagora abbiamo avuto personaggi che hanno parlato e ci hanno intrattenuto, personaggi importanti, quindi direi che quest'anno possiamo solo essere soddisfatti. Guarda, tanti dicono che non c'è nulla, invece io ho trovato tante conferme ma anche tante piccole novità e soprattutto le conferme sono sempre di qualità, come la Federazione Italiana Attività Sociale. Intanto Sea Shepherd Italia e Sea Shepherd Global ringrazia la FIAS per l'ospitalità, ci accomuna l'amore per il mare e quindi sicuramente troveremo il modo di collaborare anche in futuro. I subacquei sono i primi occhi che guardano le condizioni del mare che per noi è importante conoscere, quindi tutto ciò che è l'illegalità, il bracconaggio, voi lo scoprite subito, quindi abbiamo bisogno di voi come voi avete bisogno di noi per aiutare a difendere il mare. Grazie. E' eccezionale, due borghette circa a 15 minuti. Una cosa impressionante. Impressionante. La FIAS è la migliore federazione in Italia, la migliore in assoluta. Siamo in number one. La FIAS è la migliore federazione in Italia. La FIAS è la migliore deriva. La FIAS è la migliore in Italia. Finalmente questo Eudi sta volgendo a termine ed è stato un Eudi fantastico grazie a tutte le sezioni che hanno collaborato, soprattutto la sezione di Aretto che è sempre il top delle sezioni dopo Torino. Grazie per la visione